Negozi aperti fino a mezzanotte oggi a Sulmona grazie alle iniziative messe in atto dai commercianti di Corso Video. Quelli del lato sud per il terzo venerdì consecutivo proporranno shopping sotto le stelle, mentre la manifestazione partirà ufficialmente nella zona nord. Dopo le polemiche della scorsa settimana, per aver saputo solo poche ore prima della mancanza delle autorizzazioni ad allestire angoli dedicati alla musica, questa settimana tutto è filato liscio. Avverrà così per la prima volta questa sera nella zona settentrionale della città, dalla Fontana del Vecchio a scendere fino alla fine del corso, ci saranno 4-5 punti dedicati agli intrattenimenti che interesseranno in particolare Piazza 20 Settembre, Via Antonio De Nino e subito dopo i portici Carispac. I commercianti del lato sud annunciano invece eventi a sorpresa come un mago itinerante street magic. Saranno due gli angoli musicali, ma verranno proposte esposizioni di vespe storiche a cura del Vespa Club e di prodotti tipici locali, oltre al tequila party e appunti di ristoro. Gli organizzatori annunciano corposi sconti ed aspettano tutti nel salotto di Corso Video Sud per passare una piacevole, sorridente e spensierata serata insieme. Si auspicano la stessa cosa gli esercenti del lato nord, che potranno proporre questa sera per la prima volta gli intrattenimenti. Messe da parte le polemiche, almeno così sembra, i sulmonesi vivranno anche questa sera, all'inizio del fine settimana, all'insegna della vitalità.